Sgranchisci le gambe? Sì, 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 perché... Fa di stretching... Aspettate, sul gran finale me lo devo allenare. Uno, due... Jump! Era meglio quello di questa mattina, sinceramente? Vabbè, se sta... Quarta vertebra mi ha scriccolato, vabbè, stiamo andando avanti. Allora, come debba il grande masco, spazio, pubblicità. Accattatevi subito questo EP di John Norm, chilarista di Europe, con dentro membri dei talisman di Malmsteen, un'edizione limitata, colorata, e noi abbiamo la numero 100. Se amate gli assoli alla Gary Moore, ragazzi, prendetelo di corsa. Un live a Stockholm del periodo d'oro del chitarrista di Europe, John Norm. Via. Ieri abbiamo fatto colpo con David Bowie, ci voleva poco. No? Qualità audio. Insomma, ragazzi, arriveranno prossime settimane altre copie, la qualità audio erano debole. Ma oggi, questa sera, ci superiamo. Non potete capire. Non potete capire. Non potete capire. Questo disco di Beth Horton e quest'altro di Beth Horton. Chi è Beth Horton? Lo sono quattro gatti, che dici? Beh, negli anni 90, inizio 2000. Per quello che non lo sapesse, è una cantante inglese che ha collaborato anche con i Chemical Brothers, stile fra Eddie Bruegel, fra Susan Vega e fra Dolores O'Riota. Voi non avete idea cosa sono questi dischi. Una cosa incredibile, ma non soltanto sotto il profilo delle composizioni, ma come suonano. Cioè, voi non avete idea il contrabbasso qua sopra come è stato registrato. Si parla tanto di ultradischi, di superaudio, di OMA. Quando vengono fatte bene le cose, anche un disco da pochi euro, poche decine di euro, si può sentire bene. Questo qua, ragazzi, questi due album, hanno delle masterizzazioni incredibili, incredibili. Avete un impianto satosferico? Provate a fare prova. Fate il test. Prendetelo. Prendetelo, se avete coraggio. Prendetelo. Ma al di là di tutto, musica bellissima, bellissima, una delle più grandi cantanti, non folk, cantanti pop d'atmosfera, indie pop, chiamano indie pop. La grandissima Beth Orton. Voto artistico 8,5, voto tecnico audio 9,5, superiore allo stesso Ziggy Stardust e David Bowie.